Buongiorno a tutti amici di Rubrica Rosso Nera, ben ritrovati sul nostro canale. Oggi è un giorno importante, un giorno in cui la nostra redazione giornalistica ha lanciato ufficialmente la campagna abbonamenti al nostro canale. Riuscirete a trovare il link per sottoscrivere l'abbonamento direttamente nella descrizione di ogni video e ogni giorno ogni abbonato avrà diritto a degli contenuti esclusivi, una rubrica chiamata Rubrica del Sapere con approfondimenti sul mondo rosso-nero. Abbiamo sviluppato un piano editoriale esclusivo per gli abbonati, un piano che ha un costo di 99 centesimi al mese, quindi 1 euro al mese e ogni giorno prevede in maniera continuativa un contenuto esclusivo. Il lunedì sarà il giorno dedicato alla Serie A e al rendimento del Milan nella Serie A e l'analisi delle concorrenti. Un'analisi importante, un'analisi approfondita in cui andremo a analizzare le statistiche e le curiosità legate al campionato di Serie A 2021-2022. Il martedì verranno analizzate le strategie aziendali, quindi l'aspetto del marketing, della comunicazione, l'aspetto strategico legato al mondo rosso-nero. Perché il campo, i risultati sportivi derivano esclusivamente anche dal rendimento economico, il rendimento strategico del club. Il mercoledì sarà un giorno importante, ci sarà la rubrica legata allo scouting rosso-nero, una scouting dove noi di rubrica rosso-nero attraverso i nostri contatti, attraverso alcuni procuratori, agenti, incomincieremo a farvi conoscere i migliori talenti del calcio europeo, del calcio mondiale, che vengono accostati quotidianamente al mondo mila. Il giovedì sarà un giorno importante perché il giovedì se analizzerà la Champions League, il cammino del Milan in Europa, cammino che avremo la fortuna di condividere insieme e ovviamente condivideremo anche l'analisi sulle concorrenti. Partiremo già stasera col video in esclusiva per gli abbonati sull'analisi, sull'approfondimento sul Liverpool per la prima partita ad Anfield. Il venerdì sarà una giornata dedicata, una rubrica dedicata alle vittorie e alla storia del Milan. Analizzeremo delle vittorie, le vittorie più epiche, le vittorie più importanti che hanno caratterizzato e contraddistinto la storia rosso-nero, una storia mondiale. Il sabato sarà un approfondimento sulla stagione del Milan, come sta procedendo, quali sono i numeri, le statistiche, le curiosità, qual è il rendimento, qual è il cammino del Milan in Italia, quindi in campionato, in Coppa Italia e in Champions League. E poi la domenica ha come titolo la rubrica Conosciamoli meglio. Scopriremo a 360 gradi i protagonisti del Milan, dai dirigenti ai giocatori e tutti quelli che ogni giorno contribuiscono in maniera attiva alla creazione di un Milan sempre, sempre più competitivo. Quindi per chi volesse nel link in descrizione trova il link per procedere con l'abbonamento. Abbonamento che ovviamente può essere disdetto in qualsiasi momento. Parliamo della partita, siamo verso Milan-Lazio, ci avviciniamo sempre di più a questa partita importante, una partita che ci vedrà giocare contro una squadra ben allenata, ben organizzata e che ha già assimilato molto bene i concetti tattici, tecnici del nuovo mister di Mr. Sarri. Un Milan che arriverà con Magna in porta, con Calabria che ha fatto una buona prestazione ieri largo a destra, con Teo Hernandez molto pimpante nella partita con la Francia e rigenerato da questa convocazione che in qualche modo sognava da tempo, con Kier e Tomori nel centro della difesa. Kier e Tomori che hanno potuto lavorare bene, Tomori è rimasto a Milanello, ha lavorato in maniera molto determinata e ha raggiunto un'ottima forma fisica. Centrocampo che vedrà il ballottaggio sicuramente tra Kessi e Ben Nasser, Ben Nasser che rientrerà dalle fatiche della qualificazione al Mondiale con la sua nazionale dell'Algeria, mentre che Kessi ha recuperato, sta lavorando e sta cercando di rientrare al meglio. Certo della maia titolare sarà Sandro Tonali, che ha giocato molto bene le prime due gare col Milan e ha preso anche da protagonista, capitano anche le redini dell'Under 21. Tre quarti invece che sembra abbastanza confermata, con Saleme Kerber, Aim Diaz e Rafael Leao, adesso staremo a vedere lì davanti cosa succederà, se giocherà come punta Rebic e molto probabilmente Ibrahimovic. Ibrahimovic che ha 55-60 minuti nelle gambe e quindi sarà una staffetta tra Ibra e Rebic. Questa è una probabile formazione, è una probabile formazione molto competitiva che il Milan vuole fare alla gara e vuole in qualche modo prendersi con forza anche la vittoria, punti importanti con la Lazio per allungare su squadre come la Juve, che giocando contro il Napoli potrebbe ulteriormente perdere importanti punti. La Lazio che recupera i mobili, la Lazio che sta recuperando anche i ladri, quindi arriverà una corazzata importante, una corazzata difficile da affrontare, ma sono sicuro che il Milan con l'entusiasmo, la voglia, la mentalità che ci ha contraddissito nell'ultimo anno e mezzo potrà in qualche modo disputare un'ottima gara. Come sempre se è piaciuto questo video vi chiediamo di mettermi piace, di condividerlo, di iscrivervi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera, per chi volesse in descrizione trovate il nuovo link per abbonarsi al canale, alla sezione premium, ogni giorno una rubrica particolare. Ci vediamo stasera per gli abbonati, per un focus, un approfondimento dettagliato sulla prima partita di Champions League stagione 21-22 tra Liverpool e Milan. Buona giornata a tutti e forza, forza Milan! Grazie!